Quando pensavo a lui, io ero lì, ed ero diversa dalle volte in cui non pensavo a lui. Ricordando lui, riuscivo a ricordare chi ero. Siamo medici. Siamo qui per curare i feriti. Dovresti cercare di dormire. Non sono stanca. Qui c'è amore. Tu sai che puoi andartene quando vuoi, ma è solo quando non puoi più andare via che lo capisci. Che ci facciamo qui? No, 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 no. Ci serve il tuo aiuto lì dentro. Non li stiamo aiutando, lo capisci? Non fare come fanno tutti qui, non morire dentro. Questa non sei tu. Tu non sai neanche chi sono, lo vedi? Ok. Fermo, noi siamo... No! Adesso ho capito qual'era la verità. E qual'era la verità? So che noi ci rivedremo. Abbraccerò con lo sguardo il deserto e pronuncerò il tuo nome e vedrò il tuo viso. Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al decimo posto, Thor, Ragnarok. Al nono posto, Spider-Man Homecoming. All'ottavo posto, Baby Driver, il genio della fuga. Al settimo posto, La Torre Nera. Al sesto posto, Atomica Bionda. Al quinto posto, Valerian e la città dei mille pianeti. Al quarto posto, Kingsman, il cerchio d'oro. Al terzo posto, Star Wars, gli ultimi Jedi. Al secondo posto, Dunkirk. E al primo posto rimane Hit. E questa è la classifica aggiornata. Per vedere se la classifica cambierà, non perdetevi i prossimi trailer. E per saperne di più su questo film, visitate il nostro sito blog.screenweek.it. Ciao!